Come comunicano le persone non udenti? Ci sono una varietà di diverse tecniche utilizzate dalle persone sordo-cieche per la comunicazione. La tattica usata da una persona dipende da una varietà di fattori diversi, tra cui per quanto tempo è stato sordo-cieco. Le persone che diventano sordi per prime possono imparare la lingua dei segni e, quando diventano cieche, apprendono spesso una variazione della lingua dei segni che coinvolge il tatto. Coloro che sviluppano prima la cecità possono affidarsi alla tecnologia braille, agli apparecchi acustici o ai sistemi di alfabeto tattile. Quando si tratta di pubblico, i non udenti fanno spesso affidamento su una guida che sa come interpretare uno di questi sistemi linguistici speciali come un modo per interagire con altre persone. Una delle tecniche più comuni utilizzate da coloro che soffrono di cecità dei sordi è chiamata alfabeto manuale. Quando si utilizza questo metodo, una persona scrive forme sulle mani di un'altra persona. Le forme rappresentano lettere diverse e le persone possono scrivere avanti e indietro tra loro. Uno dei principali vantaggi dell'alfabeto manuale è la facilità d'uso. Non ci vuole molto tempo per impararlo, così i non udenti e i loro parenti possono adattarsi rapidamente al suo uso regolare. Alcune persone sorde e cieche possono contare su dispositivi tecnologici per facilitare la comunicazione con gli altri. Di solito, questi sono basati su braille, una tastiera e un display di qualche tipo. L'individuo sordo e cieco scriverà e riceverà utilizzando il braille mentre l'altro individuo scriverà con la tastiera e visualizzerà uno schermo per ricevere i messaggi. Per la maggior parte degli standard, questi dispositivi sono considerati molto costosi e molti individui sordo ciechi non possono permetterseli. Alcune persone sorde e cieche hanno almeno un uso parziale in uno dei loro sensi disabili. Quando questo è il caso, generalmente si basano sulle tecniche di comunicazione che sono possibili attraverso il senso parzialmente funzionale. Quindi, per esempio, una persona completamente sorda con parziale cecità si baserebbe probabilmente sul linguaggio dei segni. Lui o lei potrebbe dover essere più vicino all'individuo usando segni per vedere cosa viene detto, ma potrebbe consentirgli di comunicare più facilmente dell'adattamento ad un nuovo sistema linguistico. In molti paesi, le organizzazioni forniscono guide per aiutare le persone con la cecità dei non udenti e, in alcuni casi, queste potrebbero essere fornite dal governo. Quando ciò è possibile, la persona affetta da sordità non udente spesso prenderà accordi speciali per pianificare le commissioni durante il tempo trascorso con la guida. Quando è in pubblico, la guida fungerà fondamentalmente da traduttore per la persona sordo cieca.